E' come chi? Loro, no? Wow! Non sapevamo che ci fossero altre persone qui, e c'erano tantissimi! E' vero, e sai cosa siamo venuti per giocare insieme a voi? Che bello! Oggi sarà un giorno molto molto... Giocheremo insieme, non ci stancheremo mai! Un giorno per noi, un giorno per voi, let's go, let's go! E ora trovate questo? Oui! Oui! Ora tocca a George... Dino... Samo! Dino Samo! Anche voi potete partecipare. Allora, ascoltate bene cosa fare, così ci aiuterete. Bisogna portare le braccia su, tutti su, tutti quanti, tutti quanti, anche le mamme e papà hanno sentito i gimmi di tutti, tutti, tutti. Muovete le dita così, guardate su, ci sono tesori, quassù? Oh no! Allora guardate giù, giù ai vostri piedi, assicuratevi che non ci siano tesori in atto. Oh, piccolo cavalluccio marino! Svento piccolo cavalluccio marino! Vogliono diventare nostri amici! Ci dico, e poi sei? Sei il santo! Guarda George! Il gracchio cammino alla della pette! George finge di essere un gracchio. È molto divertente! Anche bene. Un gracchio. Un gracchio auguriero che fa chi, chi, chi. Un gracchio rispettoso che fa chi, chi, chi. Corre, corre, corre e fa chi, chi, chi. I ragazzi e fanno fanno il G, 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 pratica nel cielo e non si stanchia mai. Un giorno dopo e poi, un giorno dopo e poi, con Peppa e gli amici insieme a noi. Un giorno dopo e poi, un giorno dopo e poi, con Peppa e gli amici a giocare insieme a noi. Fanno il tranquillo e sulle mani, fanno i suoi piedi senza spigare, noi li adoriamo, ci piace così. No, 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 non senti tutto.